Operazioni di controllo straordinario del territorio comunale di Canichetti da parte degli agenti del locale commissariato in collaborazione con i colleghi del reparto Prevenzione e Crimine Sicilia Occidentale e quelli della Polizia Stradale e del Distaccamento Cittadino, tutti coordinati e diretti dal Vicequestore Valerio Saitta. All'operazione hanno preso parte anche i carabinieri e la Polizia Municipale. In tutto sono stati impiegati 25 uomini e 8 mezzi, mentre i posti di blocco istituiti nei punti nevralgici della città sono stati 6. L'operazione è stata disposta dal questore di egrigento Mario Finocchiaro. Nel corso dell'attività sono state identificate 60 persone e controllati 40 veicoli, elevate diverse contravvenzioni per altrettante violazioni al codice della strada. Inoltre sono stati sottoposti a controllo diverse persone gravate da provvedimenti giudiziari vari e per questo motivo privati della restrizione della libertà. Infine sono stati controllati diversi esercizi pubblici ai cui titolari sono state elevate sanzioni amministrative per delle irregolarità riscontrate. Rinvenuto dai vigili urbani di Canigattì un'Aprilia Scarabbeo che era stato rubato lo scorso 28 febbraio. Il motorino si trovava all'interno di un cortile di via Risorgimento. I vigili hanno avvertito la polizia che, intervenuta sul posto, ha riconsegnato l'Aprilia al legittimo proprietario che aveva presentato regolare denuncia di furto. Analoghe operazioni saranno eseguite nei prossimi giorni e intensificate, considerata l'escalation di furti e rapine che si è verificata sul territorio cittadino. La presenza sul territorio da parte delle forze di polizia testimonia e rafforza sempre di più il concetto che era stato presente a fianco del cittadino.